Non voglio parlare del mondiale, sapete tutti com'è andato, ha vinto Marquez, meritatamente, Lorenzo ci ha provato, secondo me è molto inferiore, qualche infortunio, alla fine ha vinto la gara, era in crescendo, però Marquez è stato più forte l'anno prossimo, Lorenzo è il suo unico avversario vedendo le cose come stanno. Quello di cui volevo parlare sono altre cose, il fashion nel motorsport, la lingua nel motorsport, praticamente tutti i siti, i giornali che hanno riportato le news su Garbusera, il nuovo tecnico di Valentino Rossi, costruiscono la news copia e incollando il comunicato stampa di Yamaha che ne ripercorre la carriera. E le valutazioni? Giornalismo castrato, niente, nessuno obietta, curiosamente lo fanno i lettori grazie a questa brutta tecnologia che permette di commentare gli articoli dei siti web sotto. Le valutazioni però le fanno in tv, la tv di regime è istruita a dovere perché non ci crede nessuno né che Converges sia finita all'improvviso, poi vediamo quando è finita e quanto, e né che Rossi non ha ancora deciso da chi farsi assistere, tanto che arriva Garbusera a Valencia, nemmeno il tempo di fare i biglietti e a fare cosa poi senza informazioni non si sa. Risultato? Rossi settimo, ancora peggio di come stava cominciando a fare alla fine del campionato, a quasi un secondo, non è cambiato niente, ma non va bene Garbusera, chi dovevano prendere? Non hanno preso Gabarrini, test team manager con Stoner, adesso supervisor, non si capisce di che, non hanno preso Massimo Bartolini, Ducati, non hanno preso Promosso Flammini, non hanno preso Romagnoli, Guidotti non andava bene, tutti i nomi da MotoGP a piedi o impegnati, ma comunque spostabili per andare in un team ufficiale con un pilota tanto blasonato. Hanno preso invece Garbusera, che è molto bravo, ma che non ha storia in MotoGP e non l'ha vista se non con la Cagiva 500 di Gocinski, a questo punto si può vedere se è libero il tecnico di Agostini che ha vinto dei mondiali. Non è ingegnere, Garbusera sia chiaro, non lo è Burgess, dicono, ma non lo è neanche lui, non parla inglese, non ha esperienze in MotoGP, in Superbike non ha vinto nemmeno un titolo, qualche gara con Agamela Andri, insomma ci è andato vicino, ma niente di più. No, non era il tecnico di Spice, che è sempre stato sin dall'IMA, Tom Hausworth, non conosce la MotoGP, non conosce l'ambiente, non conosce le gomme, le procedure, molte delle piste, niente. Magari a fine del 2014 avrà fatto comunque bene un buon lavoro, ma non c'è un motivo obiettivo da curriculum a giustificare la scelta. Una qualsiasi azienda, anche piccola, anche un caseificio, un tarallificio, che chiama come responsabile di produzione uno che si è occupato di quelle cose, più o meno. In Italia è sempre di più così, funziona così anche all'estero e anche nel motorsport, lo scopriamo sempre di più. È stato scelto da Meregalli, sono entrambi di Milano, magari si dovevano un favore e via, niente curriculum e niente. Valentino cerca nuovi stimoli e poi prende uno, che ha anche magari avuto, e mi spiace, problemi di salute, che magari voleva smettere, queste sono le voci. Sostituisce uno perché è vecchio e ne prende un altro della stessa età, uno perché la sua esperienza non va bene e ne prende uno senza esperienza, con le stesse competenze informatiche. Lascia stare che la nomenclatura a quest'ultimo lo inquadra sempre con un computer in mano, mentre per quell'altro è iniziato il processo di rincoglionitudine, che è il contrario del processo di beatitudine. Evidentemente non gli interessa vincere Yamaha, o meglio, i Yamaha sanno che Valentino quando vinceva, vinceva con Nocce, li vinceva con Brazzi e poi con Burgess, tutti bravi tecnici. C'è Burgess, da bravo tecnico, si è trovato con ottimi piloti, così come Forcada, che probabilmente è superiore a Burgess, non lo so, forse più aggiornato, ma che è evidentemente un genio, ma è alla fine Lorenzo che vince. E prima di Lorenzo? E quando Lorenzo non sarà più in grado di vincere, non è che Forcada si tramuterà il giorno stesso instantaneamente in un rincoglionito. I tecnici non fanno miracoli, i bravi tecnici fanno un ottimo lavoro e insieme ai ottimi piloti vincono, se tutto va bene, anche a livello di fortuna, le gare, ma non è che le gare le vincono i tecnici, i tecnici ormai si scegliono per motivi alternativi. Bruno Leoni ha vinto il Mondiale con Stoner in Ducati, poi ha vinto in Onda con Stoner e quest'anno ha vinto con Marquez. Il prossimo anno è a piedi, Marquez non lo vuole, cerchiamo di capire perché tutta la squadra, la squadra che ha vinto il Mondiale è a piedi, la squadra che ha vinto il Mondiale con un debuttante è a piedi, Marquez non si trova bene con la sua squadra, ma non in pista, fuori dalla pista, con gli italiani non riesce, come con gli spagnoli, a organizzare feste, uscite, eventi e cazzeggi, visto che gli spagnoli sono suoi amici, è anche più facile a livello logistico, funzionano sempre di più le regole del resto degli ambienti di lavoro, non sei simpatico, non dici di sì, non sei accondiscendente, non lavori. Però sei bravo, sti cazzi, se non sei uno yes man non lavori, se sollevi problemi, magari anche per risolverli, non va bene, devi dire che è tutto ok e che i capi sono bravi, i capi e i piloti, oppure ti cacciano. Premesso che sono tutti bravi, anche Calbusera compreso, e chi parla va fuori. Burgess ha vinto con Spencer, ha vinto con Duan, ha vinto con Rossi, da un momento all'altro una pippa al sugo. Settimane a costruire questa tesi affinché sia fatta proprio da chi ripetutamente ascolta questi ragionamenti altrimenti assurdi. Una vera e proprio tv di regime che passa il weekend a elaborare spiegazioni sempre più articolate che culminano nella comicità di Colorado, quella che non fa ridere, per intenderci, durante i test. Lo ripeti dieci volte per turno, articolo dopo articolo. Fotografi uno con un foglio in mano e con la faccia stanca e gli altri col computer e il gioco è fatto. Fai anche il finto addolorato sul fatto che in effetti è peccato, ma insomma, sai, lui è come nonno libero e simpatico, ma è rincoglionito e il gioco è fatto. Peccato però che la tesi non tiene perché ne prendi un altro che ha la stessa età, non è ingegnere come lui, viene della superbike, non ha vinto niente ed ha avuto purtroppo anche dei problemi di salute di cui però nessuno ha fatto cenno. Mentre si è invece arrivati a ipotizzare una mancanza di dedizione o di attenzione da parte di Burgess perché aveva la moglie che stava male. Questa cosa ci sono già due o tre volte che le ripeto, ma lo faccio apposta, non è che sono rincoglionito anch'io. Le ripeto perché sono pesanti. Ci deve essere stato uno scazzo totale fra Rossi e Burgess e deve essere culminato con quelle dichiarazioni che tutti ricordiamo e che riguardano la mancanza di competitività di Valentino, che non deve averla mandata giù e deve aver ricambiato cambiando, scegliendo magari qualcuno più malleabile. È nel suo diritto, è nel suo sacrosanto diritto, sia chiaro. Però manca un filo di correttezza, nel senso, sarebbe bastato dire, oh, quello non crede più in me e io lo seguo, cara TV, lui non crede più in me, dice che sono una vippa e io lo seguo, perché sono io che comando, sono io che corro, ne prendo uno che crede in me. Invece viene sulle rato Burgess, a un anno o poco più della pensione, dopo che aveva già detto che si ritirava, dopo non si sa nemmeno quanti titoli, marchiato come incapace negli ultimi giorni della sua carriera, altrimenti impeccabile. Non sarebbe bastato affiancargli un tecnico giovane? E viene preso Calbusera. Eh, perché quel giorno che ho provato la Yamaha mi sono trovato bene, ma che cazzo ti ha detto in due ore che ti ha sconvolto la vita, tanto che tre anni dopo quasi poi lo vai a chiamare? Lo chiamavi prima, no? E soprattutto, a Valencia nei test, che contributo è stato possibile dare da parte di una persona che non aveva mai visto una MotoGP? E infatti, come sono finiti i test? Che cosa è cambiato? Niente, è il solito 8-10. Poi a parte parliamo della gara dove Lorenzo girava un secondo e mezzo più veloce, anzi più piano, apposta, e Rossi ha detto di non riuscire a raggiungerlo. Se davvero non riusciva a raggiungerlo è grave, se invece riusciva e non voleva è abbastanza grave perché sì, il gioco di squadra non esiste, non so quale situazione sia più grave delle due. Comunque torniamo ai tecnici, le scelte nel motorsport per quanto riguarda gli uffici stampa, i meccanici, gli addetti, gli ospiti in televisione, gli opinionisti, quelli che devono scrivere, si fanno in base al livello di prostrazione che una persona riesce a raggiungere. È un fatto proprio di gradi, di quanto ti riesci a inclinare. Va di mondo andare oltre i 90 gradi. Non devi risolvere i problemi e evidenziarli. Devi essere d'accordo. E devi dire che alcuni sono ok, sempre gli stessi, e altri invece non vanno bene, sempre gli stessi. C'è un copione. Se ne salvano pochi. Ormai in qualsiasi ambito uno che ti dice che le cose non vanno, probabilmente anche ti dice anche il perché avendo l'esperienza per farlo, magari ti dice anche come potrebbero essere eventualmente risolte secondo lui, lo lascia a casa. Ne prendi un altro, uno qualsiasi, purché dica che tu sei bravo.